Degrado alla stazione di stella di Monsan Polo. I bagni risultano murati ed inaccessibili e lo stesso edificio è chiuso con numerosi lucchetti. C'è solo un cancelletto laterale alla destra della struttura, che permette l'accesso all'unico binario. Non esiste una sala d'attesa, ma solo una sporca panchina all'esterno, esposta alle intemperie. Guardando dietro le inferriate poste alle finestre, si nota che nei locali della stazione è ammassata sporcizia e attrezzatura di vario genere, addirittura sbarra dei passaggi a livello caduto in disuso e fili elettrici. Sui muri, i writers si sono divertiti a dipingere slogan calcistici o simboli politici. Esiste almeno una bacheca dove è appeso l'orario dei treni, che transitano ogni ora in direzioni opposte a Ascoli o San Benedetto, ma senza caricare troppi passeggeri. Chi ha sprovvisto di auto o deve compiere lunghi spostamenti preferisce l'autobus che transita lungo la Salaria. La stazione di Stella di Monsampolo, infatti, sorge in via De Gasperi, una strada periferica e sprovvista di segnaletica. Nessun insegna e indica che bisogna svoltare lungo la traversa della Salaria per approdare la stazione. La situazione, però, sembra destinata a non migliorare. La struttura, infatti, non è stata inserita all'interno dell'intesa fra regioni marche e reti ferroviarie italiane, per un progetto di recupero che vede lo stanziamento di un milione di euro. A differenza di Centobuche e Pagliare, che invece rientreranno in questa iniziativa provinciale e vedranno le due stazioni cambiare volto ed essere riqualificate.